Allora, Napolitano, Sergio, Miori in campo, partita incredibile, Babumba 3-1 su Yammer, compare qualcuno là dietro? Allora Sergio, partita strepitosa. Sì, è stata una grande partita, molto combattuta. Abbiamo creato molto nel primo tempo, però abbiamo sofferto nel primo e nel secondo tempo, è stata una battaglia. Sul 3-0 pensavamo fosse finita, poi c'è stato il gol di tenore. Non vola mai. E quindi è stata veramente una guerra oggi in campo. Senti, 2.000 parate, la più bella? La più bella, no, sono tutte importanti, però forse l'ultima alla fine su tenore di piede. Forse, sì, quella distinta. Sono felice per il gol di Nastro. E Fulvio oramai. Fulvio dispiace, lo ringraziamo appunto per tutto quello che ha fatto. Il gennaio è milanista, lui è milanista. Però appunto siamo felici per Nastro, giove e me. Grande gol, grande partita, l'ho stato per la squadra. Va bene così. Quindi possiamo dirlo che sono più patatrack in campo che i Marrakesh? A questo punto sì. A notare, siete 4 contro 3. Va bene, grazie. Ciao, grazie.